Mentre il Trani di Zinfollino si prepara al turno infrasettimanale nella lunga trasferta di Leverano, si infiamma già il pre-derby di domenica prossima, che vedrà opposte Trani e Barletta al Comunale. All'andata fu 4-2 per i Biancorossi al San Sabino di Canosa, tra il tripudio di entusiasmo dei tifosi barlettani. Un girone dopo, la squadra di Pizzulli è saldamente nei play-off promozione e nutre ancora speranze flebili di agguantare la prima piazza del torneo di eccellenza, mentre il Trani è ormai salvo e cerca solo conferme per programmare al meglio la prossima stagione, anche se resta ancora accesa la fiammella di poter rientrare nel giro dei play-off. Il derby della BAT quindi sarà un'occasione per dare una grande gioia ai propri tifosi per entrambe le formazioni. E da allora un tranese doc, tifoso degli Azzurri, lancia la sua sfida per il derby ed il suo pronostico. Il simpatico quanto colorito video è naturalmente di Leone e di Lernia che anima effettivamente il pre-derby di domenica al comunale.